Questo è un brano che abbiamo fatto una volta sola a Pescara, l'abbiamo fatto e c'è una persona che era anche a Pescara a vederci, che è qui con noi stasera, è di Bologna, si chiama Anna e quindi la volevamo dedicare, grazie Anna di esserci sempre, non solo con la presenza ma soprattutto col tuo cuore e questo è tutto per te, si chiama These are on air. Vedi qualcosa, vedi qualcosa, voi vedi qualcosa Vedi qualcosa, 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 vedi qualcosa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti